I numeri sono eccezionali, ripeto il sequestro di 7 tonnellate di prodotti itici è un risultato che ci pone assolutamente in una eccezionalità. Eccezionalità dovuto al fatto che se noi consideriamo le operazioni complesse compiute nel compartimento marittimo di Porto Empedocle assieme ai colleghi di Sciacca e delle altre capitanerie convolte che ha portato a un totale di 6 tonnellate per tutte le attività svolte. Quindi in una sola operazione abbiamo superato i risultati raggiunti. Io sono particolarmente contento perché gli ispettori militari che hanno operato hanno operato in condizioni climatiche assolutamente proibitive perché operare in cielo frigorifere a meno 20 gradi ovviamente non ha una situazione di normalità. Si sono dovuti alternare e nel momento in cui ci si è resi conto della portata del sequestro abbiamo dovuto mandare ulteriore personale a supporto perché effettivamente lo sforzo dal punto di vista ispettivo era assolutamente eccezionale. Va il mio applauso assolutamente al riconoscimento e ringraziamento a coloro i quali hanno operato per giorni in condizioni proibitive ottenendo un risultato che ci pone assolutamente ragguardevole e che ci fa contenti perché abbiamo garantito ai cittadini, a coloro i quali consumatori finali che i prodotti che loro devono avere sulle loro tavole devono essere prodotti di qualità tracciati e rintracciati e in alcuni casi purtroppo abbiamo riscontrato anche essere scaduti.